di sentire il Ministero della Salute durante la procedura di cui in premessa. Onorevole Crippa intende intervenire o va bene? Non ho capito se chiede la parola. Prego. Grazie Presidente. Su questo tema, visto che il Governo si è espresso in maniera chiara, almeno così come l'ha definito la Vice Ministra Bellanova, un impegno formale, noi chiediamo che la vautare l'opportunità di non ci sia. Perché se è un impegno formale non ci deve essere a vautare l'opportunità di. Se lei si è espressa con una presa d'atto e un impegno chiaro e concreto, mi sembra un po' strano vedere a vautare l'opportunità di. La ringrazio. Il Governo intende intervenire? Prego. Sì, grazie Presidente. A sentire il Ministero della Salute durante la procedura di cui in premessa, come da impegno che avevo assunto in Commissione, correttamente. Va bene così a questo punto. Quindi è accolto. Siamo al 24 della Valle, favorevole con riformulazione, viene accolta. Siamo al 25, Cristia Iannuzzi, c'è il parere contrario. Se non vi sono interventi lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Benedetti Ruocco Sì, qualche secondo aspettiamo. Però chiedo ai colleghi anche di fare in fretta a raggiungere la postazione. Grazie. 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 Grazie.